Musica Benvenuti a TG Sport Flash, l'appuntamento settimanale con casertasera.it Oggi parleremo di calcio di serie D con un focus sul calcio giovanile Cominciamo proprio dalla serie D calcio con le 5 squadre casertane che sono impegnate nel prossimo turno Il campionato questa settimana rimarrà fermo fino al prossimo 27 marzo Naturalmente parliamo delle squadre casertane che saranno Aurora Alto Casertano, Matese, Gladiator, Casertana e Reala Versa Ma facciamo il punto iniziando proprio dalla serie D con il nostro Emilio Bianchi Prego la regia di mandarlo in onda Innanzitutto diciamo che domenica prossima non si gioca per una sosta del campionato di cui sinceramente non abbiamo capito il motivo Considerando che il Covid ha scombustolato un pochettino i campionati A mio parere era fondamentale anzi recuperare delle partite proprio in previsione che possa nuovamente scombustolare il campionato Detto questo le partite riprenderanno non sabato e domenica prossima bensì l'altra settimana Per quanto riguarda i gironi G, H e I che vedono impegnate le altre tre squadre casertane al di fuori dell'Aurora e del Matese Che giocano nel raggruppamento F Il Gladiator nel girone G ha proprio un passo dalla zona play-out Ospita i sardi dell'Anusei sperando in una vittoria che possa un pochettino di rally fuori dalla zona calda della classifica La casertana da parte sua si reca a Matino Non dovrebbe essere una partita difficile perché il Matino è ultimo in classifica E la casertana se vuole aspirare ancora dei posti di rilievo deve fare i tre punti indispensabili alla sua classifica Per quanto riguarda invece la Versa che si gioca le sue carte nel raggruppamento con le siciliane Avrà un big match in casa con la prima della classifica, il G, il Bison Sperando di poter migliorare una classifica di per sé già abbastanza lusinghiera Bene, veniamo invece al girone F Che vedrà il Matese ospitare il notaresco dopo la brillante vittoria contro il Castelfidardo Che ha portato la squadra di Urbano in una posizione abbastanza buona di classifica Diciamo in un limbo che la vede a quattro punti dalla zona playoff E dal terzo posto in classifica principalmente E altrettanti punti dalla zona playout che prevede lo spareggio fra le ultime sei della classifica Beh, il Matese avendo inserito in formazione abbastanza stabilmente il cannoniere napoletano Pare indirizzato verso posizioni che migliorino una classifica Che nelle ultime giornate nonostante dei risultati positivi La vedevano ancora in una situazione abbastanza ambigua di classifica Detto questo, si spera in un'ulteriore vittoria della squadra verde-oro E della possibilità di percorrere il cammino dello scorso anno Per quanto riguarda invece l'aurora alto casertano del presidente Montaquila A cui auguriamo tutta una pronta corrigione Abbiamo saputo di una sua indisposizione Per quanto riguarda l'aurora alto casertano Dicevo, giocherà fuori casa una partita molto, diciamo, difficile da parte sua L'aurora alto casertano giocherà a Porto d'Asco Lì contro una formazione impegnata nelle prime posizioni di classifica Naturalmente sarà un compito difficile per i giovanissimi Che il presidente Montaquila sta lanciando in formazione In previsione di un prossimo campionato di eccellenza Che possa rimerdire i fasti di questa squadra Auguriamo nuovamente al presidente Montaquila e ai suoi ragazzi Di poter perlomeno fare qualche punto nelle prossime giornate di campionato E ribadiamo i nostri migliori auguri al presidente di questa squadra C'è una squadra ultima in classifica nel girone F che sta cambiando strategia Alla luce dei risultati ottenuti sta investendo ora sui giovani Non si abbatte mai, non si arrende la classifica ed è imbottita di giovanissimi Ma va in campo senza timore reverenziale È l'aurora alto casertano Ma come si fa a motivare una squadra ultima in classifica? Lo abbiamo chiesto al mister Nicola Mancino Il servizio Come una squadra di ragazzi intelligenti sappiamo che il morale dei ragazzi deve essere sempre al 100% Anche negli allenamenti, loro lo sanno Io sono uno che vuole sempre il massimo Anche quando avevo 13-14 anni io davo sempre il massimo su tutte Loro lo sanno Io da loro voglio il massimo Sia nell'allenamento che nelle partite Perché ci sono ancora tante partite Ci sono ancora tanti punti Intanto c'è una squadra che comunque dal gioco si vede è abbastanza tonica Quindi questo è anche merito credo dell'allenatore Cercare di mettere su il morale come abbiamo appena detto Intanto può essere anche una strategia Visto i risultati che ci sono stati Mettendo dentro tanti giovani per il prossimo anno potreste trovarvi davvero un bel gruppo Sì sicuramente la squadra sono 5-6 partite che sta esprimendo un calcio buono Tutto quello che proviamo in settimana la mettono sempre in atto E questo sono contentissimo Domenica prossima il camionato resta fermo Prossimo incontro? Sì il prossimo incontro abbiamo una partita fuori casa che è Portodasco Una squadra che sta bene in salute Però noi non ci facciamo trovare impreparati Andiamo lì e facciamo la nostra partita come la stiamo facendo tutt'ora I ragazzi sanno quello che voglio Le ultime partite stiamo esprimendo anche un buon calcio Queste le partite del prossimo turno di Serie D che si giocheranno il 27 marzo Portodasco di Aurora Matese Notarisco Reala Versa Gelbison Gladiator Lanusei Virtus Matino Casertana E parliamo di calcio giovanile con sempre meno talenti nei campionati che contano Un problema non solo di oggi Per una serie di motivi che abbiamo analizzato con l'avvocato Giovanni Di Caprio Esperto di diritto sportivo e gestione calciatori L'intervista Come mai tanti giovani non emergono più come prima nei campionati italiani? La questione è questa In realtà si parte dai settori giovanili I ragazzi si fermano poi a una certa età C'è poco spazio nelle squadre di prima divisione Partendo da A fino alla D prima fascia E c'è quindi una carenza proprio di una prospettiva da parte di questi giovani Che non possono realizzare i loro sogni per tanti motivi È vero che stiamo attraversando ancora oggi un periodo di difficoltà economica Dobbiamo dare atto anche che i presidenti delle società Oggi hanno pochi fondi Però si possono reperire tra i vari istituti Ecco anche il credito sportivo Soprattutto per dare modo di incentivare Soprattutto gli impianti sportivi Che non abbiamo in Italia Ci sono carenze strutturali Il credito sportivo è uno degli istituti più importanti Dove si possono reperire queste risorse Che cosa si può fare esattamente? Quindi come dicevo prima Investire Investire nei settori giovanili Gli istituti giovanili sono il futuro di una società L'investimento ripeto Oltre ai finanziamenti Ma deve essere fatto secondo me Facendo sì che i settori giovanili Abbiano poi anche degli allenatori abilitati Allenatori che preparano questi calciatori Per poter fare il passo Diciamo un salto di qualità Nelle categorie superiori Noi troviamo dei giovani che si fermano a 18 anni Le cosiddette scalette delle primaverie Sia primavera 1, primavera 2, primavera 3 Poi arriviamo a 18, 19 anni Che ritornano a giocare magari in eccellenza Oppure ripeto in serie dilettantissime Quando hanno prospettiva professionistica Ciò è diverso invece nel calcio non italiano Abbiamo per esempio l'esempio di calciatori Di 17, di 16, di 18 anni Che già esordiscono in Champions League Nei paesi stranieri Io da poco sono direttore generale Dell'MC Sport World di Manchester In gruppo mondiale Proprio di sera parlavo in videoconferenza Di questa difficoltà in notaria Di far esordire i giovani nei campionati importanti Invece all'estero questo si fa Il nostro TG Sport termina qui Grazie ad Andrea Caprarelli Alla regia E a voi tutti che ci avete seguiti Alla prossima settimana Sigla!